amici sporta chilometro zero ben ritrovati siamo con coach caimi della synergy valdarno per valutare insieme a lui quali sono le indicazioni che ha ricevuto da questo per campionato per quanto riguarda il suo gruppo come valuta il prossimo girone di serie c gold toscana e soprattutto come pensa che la sua squadra arriverà alla prima gara di sorvio quando in valdarno arriverà il prato intanto coach la ringrazio per la sua disponibilità e quindi per iniziare questa nostra chiacchierata a distanza come valuta il precampionato come la squadra ha reagito in questa prima fase della stagione un saluto a tutti gli appassionati di basket ma guarda la condizione della mia squadra è buona anche se abbiamo fatto poche partite amichevoli tre probabilmente ne faremo una quarta in questo weekend la situazione chiaramente non è delle migliori abbiamo avuto un po di problemini ma come tutte le squadre per gli allenamenti chi è arrivato un po in ritardo chi ha dovuto fare quarantena chi è dovuto ora in questo periodo stare in quarantena perché degli amici erano positivi quindi non è stata semplice ma non è stata semplice per noi ma credo per tutte le altre squadre che facciano un campionato sportivo però la condizione dei ragazzi è buona si sono allenati molto bene come vado detto negli nelle altre interviste la nostra sua molto giovane quindi una squadra che è che s'allena con grande intensità con grande voglia ai ragazzi stanno migliorando sicuramente e sul prossimo girone di serie c gold cosa ci può dire qual è il suo pensiero il girone toscano è un girone di ottimo livello sicuramente ci saranno le prime quattro cinque squadre che faranno credo un campionato a parte perché sono sulla carta nettamente più forti delle altre poi sono squadre in mezzo che possono dare molto noia anche a quelle superiori a loro tipo penso alla spezia che è un'ottima squadra penso a legnaia la stessa lucca secondo me non è una brutta squadra e poi c'è il gruppettino tra cui ci saremo anche noi delle ultime quattro cinque squadre che sulla carta sono e siamo inferiori alle prime sette otto squadre però questo è sempre sulla carta poi il campo dirà i veri valori è una stagione un po strana quindi soprattutto all'inizio credo che magari sarà qualche risultato un po strano perché i ragazzi sono fermi da sei sette mesi e già questo potrebbe influire tanto in più come ti dicevo ci sta che alcune squadre hanno avuto più o meno problemi per quello che tutti noi sappiamo ecco quando riguarda il match con il prato quale pensa che possono essere le sue scelte di gioco per valorizzare al massimo le qualità dei suoi giocatori nella circostanza la prima giornata incontriamo prato è una squadra che per caratteristiche individuali la conosco abbastanza bene conosco molto bene il loro allenatore che è un mio carissimo amico e collega e che è molto bravo quindi ci aspetta una partita difficile però credo che noi se se la mettiamo sul sull'intensità difensiva e sul sul fatto di alzare tanto il ritmo della partita possiamo dire la nostra e forse ce la possiamo giocare ecco però ti dico non lo so è tutto un punto interrogativo noi quello che dobbiamo fare è cercare di fare la miglior partita possibile sperando di avere tutti i ragazzi perché non è detto e sicuramente venderemo cara la pelle giocheremo col coltello tra i denti poi vediamo la fine se saremo stati bravi a fare una grandissima partita magari riusciremo a prendere questi primi due punti prato è una squadra che in alcuni ruoli è molto esperta playmaker danesi naguardia staino e hanno due lunghi di impatto fisico e tecnico magni da numero 4 e vannini da numero 5 quindi loro hanno un quintetto base di ottimo livello e dietro dei ragazzi che mi dicono li conosco ma degli ottimi ragazzi che escono dal fettore giorni quindi una partita difficile però sarà una partita difficile anche per loro sono sicuro ecco l'ultima battuta di coach caimi è davvero tutto ringrazio coach caimi per la sua disponibilità verso sport a chilometro zero e quanto ci hanno seguito fin qui grazie a tutti e buon proseguimento di serata